Il confronto Il confronto a livello nazionale sulle disposizioni per contrastare il contagio da coronavirus. Sul tavolo governativo chiusura, scuole e probabili nuove disposizioni su manifestazioni e luoghi di aggregazione culturale. Disatteso confronto sulle conseguenze economiche. Sicurezza in arrivo, 18 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle strade cunesi. Cuneo progetto da realizzare nell'area dell'ex caserma Montezemolo presentato dal comune Il Bando. Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Il telegiornale di Telegranda si apre anche in questa edizione facendo il punto su quella che è l'emergenza coronavirus ed in particolare su quelle che sono le ultime novità a livello di numeri di contagio sul territorio piemontese. L'ultima novità è del pomeriggio di oggi, mercoledì 4 marzo. Arriva da Biella dove è stato chiuso il pronto soccorso e anche il reparto di rianimazione e medicina d'urgenza per il primo caso positivo al virus in questo territorio. Chiusura significa ovviamente isolamento. L'annuncio è stato fatto nel corso del pomeriggio dal coordinatore dell'unità di crisi Mario Raviolo durante la conferenza stampa che quotidianamente da quando è scattata l'emergenza viene condotta con l'assessore regionale alla sanità. Nella stessa conferenza stampa Raviolo avrebbe annunciato di avere comunicato al sindaco di sconsigliare una manifestazione prevista proprio per la serata di oggi che avrebbe coinvolto 1300 persone. L'obiettivo delle misure di sicurezza da cui dipende anche la chiusura delle scuole è proprio quello di cercare di ridurre al minimo il contagio e dunque ridurre al minimo anche i luoghi di aggregazione e soprattutto quelli dove è prevista una grande presenza di persone. Ma vediamo qual è la situazione per il momento sempre in divenire. Lo ricordiamo ci possono essere dei cambiamenti anche nel corso della serata. Fino a questo momento le decisioni governative prevederebbero la chiusura delle scuole fino alla metà del mese di marzo e poi ci sono anche delle disposizioni a livello proprio di accoglienza sanitaria. La direzione assunta dalla governo mercoledì 4 marzo è quella delle scuole chiuse fino a metà marzo per contrastare il contagio da coronavirus. Un'ipotesi al centro del dibattito del governo da giorni e a livello nazionale. La decisione è presa, il decreto arriverà nelle prossime ore, nei prossimi 30 giorni. Gli italiani dovranno anche ricordarsi di modificare le proprie abitudini. Niente strette di mano, niente abbracci, basta meeting e congressi. Stop alle manifestazioni. In quanto allo sport le discussioni sono in corso ma pare probabile la ripresa dei campionati anche se con le dovute precauzioni. Il governo mira anche a potenziare il sistema sanitario con un aumento del 50% dei posti nelle terapie intensive, quelle più sotto pressione, in emergenza coronavirus. L'assessore regionale alla sanità Icardi ha illustrato il piano complessivo di organizzazione della rete ospedaliera regionale piemontese dedicata all'emergenza. In totale al momento sono disponibili 64 posti di rianimazione e 88 posti di post-acuzie. In particolare sono coinvolte le strutture ospedaliere di Cuneo Carle, 5 posti di rianimazione, 30 per gli infettivi, Vercelli, 12 in terapia intensiva, 11 per gli infettivi, Asti, 17 terapia intensiva, 16 gli infettivi, Tortona, 21 reanimazione, 21 degenza, Casale, 20 nuovi posti di malattie infettive per ricevere i pazienti non covid provenienti da altre strutture. In questo modo, ha rilevato l'assessore Icardi, il Piemonte è pronto ad affrontare un eventuale peggioramento della situazione ritenuto, peraltro, probabile dalle proiezioni degli epidemiologi regionali. Vediamo proprio quali sarebbero i dati relativi ai presunti, anche contagio, quelli comunque risultati positivi, sono saliti a 81 nella giornata del 4 marzo, 41 in provincia di Asti, 15 nell'Alessandrino, 11 in provincia di Torino, 5 nel Verbano, Cusio, Ossola, 3 in provincia di Novara e 3 nel Vercellese. 25 persone sono tuttora ricoverate in ospedale, di questi 19 sono ospiti in reparti di malattie infettive, 6 ad Asti, 4 a Novara, 5 all'Amedeo di Savoia di Torino, 2 ad Alessandria, 2 a Vercelli. Altri 13 pazienti sono ricoverati invece in terapia intensiva. Finora sono stati 514 tamponi eseguiti in Piemonte, 407 dei quali sono risultati negativi. Nel calcolo degli 81 positivi rientrano anche i tre casi di pazienti provenienti da altre regioni che però sono stati curati in Piemonte dall'Istituto Superiore di Sanità. E' stato al momento confermato un solo caso sugli 81 complessivi. Per gli altri si attende comunque ancora il risponso sempre dello stesso istituto. Prima di parlare ancora dei dati sanitari vediamo un'intervista proprio di oggi, mercoledì 4 marzo, le dichiarazioni del Presidente Cirio. A misure concrete e soprattutto veloci, qua ci si gioca molto anche sulla rapidità, soprattutto la possibilità di avere la cassa integrazione in deroga per quanto riguarda le aziende anche con meno di 6 dipendenti e soprattutto un'attenzione a tutto quel comparto del turismo e del commercio e anche alle famiglie. Perché tenere le scuole chiuse vuol dire comunque dare dei costi in più alle famiglie che in qualche modo lo Stato e noi regioni dobbiamo aiutare. Ecco, questo era l'argomento del quale oggi a Roma si sarebbe voluto parlare non solo di quella che è l'emergenza sanitaria. Lo ricordiamo, fra le principali conseguenze registrate a livello nazionale anche molto sul nostro territorio ci sarebbero proprio quelle economiche. Un paradosso hanno detto gli attori del comparto turistico e ricettivo del territorio cuneese, l'unica provincia dove non sono stati registrati i casi, ha registrato però un calo degli affari collegati al turismo invernale pari. Oggi già al 90% continuano le disdette e delle prenotazioni fatte nelle scorse settimane soprattutto dai turisti stranieri. Ma noi torniamo a parlare invece di quelle che sono le situazioni sanitarie. In Piemonte nella giornata di oggi è stata anche registrata la prima vittima fra i pazienti che sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta di un uomo che vive ad Alessandria e aveva 79 anni. Pare comunque che soffrisse anche di altre patologie, era ricoverato a Tortona. Si attendono gli esiti completi delle valutazioni sul corpo. Poi intanto sta invece meglio l'83 che è ricoverato per la stessa ragione nello stesso reparto a Tortona. E noi di nuovo abbiamo voluto invece ascoltare quella che è la sensazione in questo caso da parte dei cunesi nei confronti dell'evolversi dell'emergenza coronavirus. In tutta la regione adesso hanno prorogato la chiusura delle scuole. Cosa ne pensa? Non sono tanto d'accordo. Se non vogliamo che diventi una pandemia o qualcosa, dobbiamo fare qualcosa. Bloccare tutto così quando il coronavirus è l'ottobre che gira, io credo, e tanti l'hanno fatto e non se ne sono nemmeno accorti. Poi per carità, fermarlo è una cosa giusta, bloccare tutto così mi sembra troppo. È giusto al 100%. Un po' più sicuro, no? Poi i bambini sono contenti. Bel dramma, io ho due nipotini da guardarmi. Mia figlia deve lavorare e così facciamo le nonne a tempo pieno. Nel caso in cui la donna lavora e comunque non c'è il supporto dei nonni materni o paterni è dura? Mi fa piacere perché so che stanno disinfestando tutto, però finché non c'è un vero caso a Cuneo, secondo me è un po' troppo esagerato. Ma secondo me è inutile. Inutile tenere aperto, che so, il calcio e poi dopo chiudono le scuole. Chiudono le scuole e poi il resto è ripartito, per cui voglio dire non ha molto senso, si chiude tutto o si lascia aperto tutto. Anche il mercato per esempio, stamattina pieno così, come fai a stare un metro? Siamo appiccicati. Io direi che visto che è tutto chiuso a questo punto si chiude tutto o non si chiude niente. Anche in un bar si può prendere un virus del genere. Secondo me è un'influenza che, secondo me, poteva essere evitato tutto quel cancan che c'è. E il tema del coronavirus è una cosa che la preoccupa oppure no in generale? No, non mi preoccupa nel senso. Non so, secondo me hanno creato molto allarmismo. Sono sincero, mi sono un po' informato, non più di tanto. Un po' sì, però non è che ci penso più di tanto. Assolutamente no. Penso che magari l'anno scorso c'erano tanti polmoniti che si poteva anche morire. Ho letto che nel 2019 in Italia ci sono state 29.000 più o meno morti di influenza normale. Anche in televisione i medici dicono che comunque i sintomi sono come quelli dell'influenza, cioè il 2% provoca, diciamo, mortalità. Purtroppo ci sono delle malattie che sono ancora peggio e sono molto più veloci del coronavirus. Io non ho paura. Alla mia età, sa, una bronchite o cose del genere, posso anche andare. So che magari molti l'hanno già avuta e che sono guariti. Però vedo che ce ne fregano tutti. Non la preoccupa più di tanto, mi sembra di capire. Perché tanto ci sono gli ospedali, se uno è malato va là, qualcosa li fanno. E se però ci andiamo tutti insieme negli ospedali e non ci fosse più posto? Tutti assieme, non è mica il caso. Bisogna essere fortunati, non prenderlo. Almeno, io spero. Bisuma niente, ma perché ne fanno già tutti i telegiornali, ma qui a Cuneo non c'è mica. Adotti qualche misura, insomma, ti lavi più spesso le mani, adotti qualche misura speciale oppure no? No, ci laviamo spesso le mani, cerchiamo appunto di seguire quelle indicazioni che danno, insomma. Però poi la vita va avanti, per forza. E a proposito delle interviste che avete appena visto, si tratta solo di un estratto di un servizio che andrà in onda questa sera alle 21, nella nostra puntata di La Granda C'è. Questa sera interamente dedicato ovviamente all'emergenza coronavirus. e in studio sono stati invitati esperti medici ai quali la dottoressa Bianco ha chiesto qual è la situazione e soprattutto ha chiesto anche di ricordare quali sono le buone pratiche per cercare di affrontare questo periodo di emergenza. Dunque l'approfondimento sul coronavirus in La Granda C'è questa sera alle 21. Sempre a proposito di quelle che sono le conseguenze dell'emergenza, è stata annulata la data da destinarsi la visita a Cuneo del capo della Polizia e direttore generale della pubblica sicurezza Franco Gabrielli. Era prevista per la giornata di venerdì 6 marzo. Ed ora lasciamo l'ampia pagina dedicata all'emergenza per parlare del progetto da realizzare nell'ex caserma a Montezemolo. Siamo a Cuneo, oggi in Sala Vinai, in Via Roma è stato presentato dal Comune il Bando. Assessore, ha presentato il Bando per questo progetto dell'ex caserma a Montezemolo. Quali sono gli obiettivi? Ci vuole spiegare in che cosa consiste? Il Bando ha un compito fondamentale, individuare un gruppo di progettisti che faccia la progettazione effettiva, cioè quella prevista dal codice degli appalti, sia di tipo esecutivo che poi di tipo definitivo. È ovvio che su un'operazione di questo tipo che ha bisogno ancora di grossi approfondimenti, la funzione dei progettisti sarà anche quella di confrontarsi con l'amministrazione sulle scelte concrete, sapendo che la filosofia complessiva è quella di creare una zona che attiri la popolazione, faccia ricrei dei legami sociali e nel contempo rispetti il verde, sapendo che comunque è una zona che è a ridosso di piazza d'armi ed è all'interno di un'operazione che, ripeto, riguarda anche i via le ciliarisi. Quindi stiamo valorizzando il verde, che è una cosa importante, ma valorizzando soprattutto la creazione di nuovi rapporti sociali in una città che non è particolarmente diversa dalle altre, ma come tutte le altre ha dei problemi di polverizzazione del tessuto di solitudine, di gente che sta a casa davanti a internet, eccetera. Quello che noi vogliamo fare è ricreare il tessuto sociale. Ecco, quindi l'idea che avete esposto è quella di creare, come ha detto lei, uno spazio in cui si possano fare diverse attività, spazio per i giovani, per musica, arte, cultura, insomma un progetto ambizioso. Sì, è un progetto molto ambizioso e molto complicato, questo sicuramente, però è quello che dobbiamo fare, nel senso che la vecchia metodologia di creare delle piazze, sperando che poi si riempiano in modo automatico, non funziona più. Noi non vogliamo gestire come comune la caserma Montezemons, vorremmo che nascano delle strutture imprenditoriali e culturali che sappiano gestire una struttura del genere anche a reddito, nel senso che non pesino su un bilancio pubblico che purtroppo deve far fronte molto spesso alle manutenzioni, che sono cose banali ma fondamentali. Ultima cosa, ci sono state diverse discussioni anche oggi, perplessità espresse da qualche cittadino che c'erano già state. Cosa risponde soprattutto a chi vi abbia parlato di un bando che secondo loro non è partecipato, mentre l'ha definito uno dei più partecipati? Noi abbiamo fatto, sia nella fase di Europa, sia nella fase dello studio di fattibilità che è stato fatto da Quintana, abbiamo fatto numerose riunioni sul territorio. Certo, San Paolo si è riunita un paio di volte, tutti i comitati di quartiere insieme sono venuti. Cioè abbiamo fatto un'attività di partecipazione che è paragonabile a quella che facciamo per il piano strategico del 2006. E' ovvio che c'è sempre qualcuno che alla fine non si ritiene soddisfatto, ma questo fa parte della fisiologia, nel senso che io sono addirittura convinto che, anzi sarei molto più preoccupato se non ci fosse discussione, perché se si è discussione c'è sempre la possibilità di migliorare tutti, se si ha la capacità di cambiare idea in alcuni casi o di ammettere la giustezza di altre idee, per cui andremo ancora avanti con queste discussioni. Abbiamo dei tempi da rispettare, per cui dovremo farlo mentre si lavora. E come avete sentito in questa intervista, Mantelli ha risposto ad alcune critiche avanzate dai rappresentanti dei comitati di quartiere, dell'associazione di piazza in piazza, che erano presenti anche oggi in sala Vinai e che da tempo contestano il progetto che l'amministrazione vorrebbe realizzare nell'ex caserma Montezemolo. Presentazione del bando per l'ex caserma Montezemolo, siete soddisfatti o no di quello che avete ascoltato? No, rimangono un sacco di... cioè, mi sembra che siano almeno un po' disorientati. Ci sono tanti documenti, non si capisce bene a quale documento faranno riferimento, hanno mandato delle correzioni in Regione, non hanno neanche aspettato che la Regione rispondesse. Non si capisce, in effetti, come questa cosa possa andare avanti. Soprattutto tante perplessità da parte vostra sul fatto che hanno definito questo bando uno dei più partecipati, mentre voi dite non è stata informata, non c'è stata condivisione con la gente. No, noi siamo andati sotto i portici più di una volta a fare volantinaggio e adesso continueremo a farlo. E la percezione è proprio quella che la gente effettivamente non sa niente. non è coinvolta, i comitati di quartiere non hanno fatto nessuna assemblea. Cioè, qui la partecipazione è avvenuta in gruppi scelti dall'amministrazione direttamente. Io non lo so, io non la chiamo partecipazione e non è neanche populismo, come l'assessore vuole far credere. Ecco, questa è proprio mancanza di informazione, semplicemente. Quindi continuerete nella vostra battaglia? Certamente, certamente. Anzi, vi faremo sapere presto. Grazie. Restiamo a Cuneo, dove venerdì 6 marzo torna, mi illumino, di meno sedicesima edizione della celebre campagna radiofonica su risparmio energetico, lanciata dalla trasmissione Caterpillar, programma in onda su Radio 2. Anche quest'anno il comune di Cuneo ha aderito all'iniziativa, organizzata e promossa a fine di informare, sensibilizzare e soprattutto stimolare la partecipazione individuale a buone pratiche utili per risparmiare energie e diminuire le emissioni di gas climalteranti, oltre all'attenzione verso le fonti di energie alternative e l'economia circolare. L'idea Cuneo è quella di sensibilizzare attraverso un gesto simbolico, quello di spegnere alcuni importanti monumenti o luci cittadine a cui da qualche anno appunto viene affiancato l'invito laddove è possibile a spegnere le luci di casa. Ed ora parliamo di un'importante boccata d'ossigeno che arriva per la messa in sicurezza o almeno per la sua manutenzione della fitta rete stradale provinciale cuneese. Sono in arrivo 18 milioni di euro. Saranno 18 i milioni di euro che arriveranno dal governo per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Granda che conta circa 3.300 km di strade. I soldi sono inseriti nella legge di bilancio di quest'anno per un totale di 995 milioni in 5 anni e sono stati definiti da un decreto del Ministero delle Infrastrutture pubblicato nei giorni scorsi. Consentiranno, nei prossimi 4 o 5 anni, di portare avanti interventi di manutenzione alla rete viaria provinciale negli ultimi 15 anni ridotti al minimo per mancanza di fondi. L'assegnazione dei fondi porta ad un giusto riequilibrio tra le province del Piemonte in termini di finanziamenti ricevuti. A Cuneo arriveranno subito un milione di euro, due milioni nel 2021 e quasi 5 milioni ogni anno fino al 2024. La provincia dovrà poi provvedere alla progettazione di interventi di manutenzione per ponti, viadotti, segnaletica e per rimettere a nuovo tante strade in condizioni precarie. Intanto sono stati pubblicati i dati di gennaio 2020 relativi alle 52 postazioni a disposizione della provincia per rilevare i flussi di traffico. Con i suoi 21.330 passaggi di veicoli al giorno, di cui il 10% di mezzi pesanti, camioncini e furgoni, la strada provinciale 422, che dall'uscita del viadotto Soleri di Cuneo conduce verso Confreria, è l'arteria più frequentata di tutta la Granda, seguita a poca distanza dalla provinciale 929 Alba Mussotto, che si attesta sui 19.835 passaggi quotidiani, l'11% di mezzi pesanti. Parliamo anche di sicurezza proprio da un punto di vista di controlli. Torniamo a Cuneo dove sono intensificati i controlli e le verifiche da parte della Polizia Municipale, non solo per verificare che si è rispettato il codice della strada nel concentrico urbano, ma anche per cercare di limitare quelle situazioni di degrado che erano state più volte denunciate dai residenti di alcuni quartieri, in particolare della zona a ridosso della stazione ferroviaria. La risposta alla richiesta di sicurezza dei residenti di alcuni quartieri di Cuneo è in atto da alcune settimane. Per cercare di monitorare le zone ritenute più a rischio degrado e per le quali più volte i residenti di Corso Giolitti, Corso 4 Novembre e zone limitrofe si erano rivolte alle istituzioni, continua il presidio del territorio da parte della Polizia Locale. Oltre ai normali controlli del centro storico e delle frazioni, le pattuglie dei nuclei di pronto intervento e servizi mirati sono state impiegate per il rispetto dell'ordinanza di divieto di transito dei mezzi pesanti e per il presidio di Corso Giolitti e di Corso Nizza, nell'area compresa tra Piazza Europa e Piazza della Costituzione. Da inizio in anno in queste aree sono state elevate 229 sanzioni. Proseguono inoltre i servizi del turno serale, con la presenza delle pattuglie due giorni alla settimana decisi dal comando in base alle esigenze contingenti per il presidio delle aree a Tigua, la stazione ferroviaria, in Corso Giolitti e in Piazza della Costituzione. Numerose le uscite mirate per lo sgombero del sottopassaggio movicentro, con previsione anche di interventi in contemporanea con la ditta di pulizie. Da segnalare infine i servizi con personale a piedi o munito di velocipedi per controllo più capillare anche sotto i portici e nelle vie circostanti. Un anno singolare il 2020, sono molte infatti le circostanze particolari, ma c'è anche una componente di grande fortuna. Pare infatti che dall'inizio dell'anno, grazie al sistema del 10 e l'8, si sono già stati distribuiti premi per oltre 768 milioni di euro. Fra questi rientra un premio segnato proprio nella giornata di ieri 3 marzo. Siamo a Saluzzo, dove una persona con la giocata di un euro alla 10 e l'8 ne ha vinti 100 mila. Solo nella giornata di ieri sarebbero state elargite vincite per oltre 4 milioni e 437 mila euro. D'ora ci spostiamo invece a Savigliano per parlare del sociale, è nata la piattaforma solidali.org dove è possibile sostenere i progetti di associazioni in realtà del mondo del volontariato. Il web ha ormai una presenza preponderante nelle nostre vite ed ora da Savigliano nasce un progetto che unisce il web e solidarietà. In che cosa consiste? Allora questo progetto è nato qualche mese fa, 5-6 mesi fa. Chiaramente abbiamo speso parecchio tempo nell'elaborazione del medesimo perché era un'idea che abbiamo mutuato da alcune esperienze che abbiamo tratto anche dal web evidentemente. La piattaforma, spieghiamolo, si chiama solidali.org e sarà proprio una piattaforma in cui domande offerte si incontreranno nell'ambito della sociale, della solidarietà. Esattamente, questa piattaforma è congegnata per dare l'accesso ad un soggetto che noi abbiamo chiamato virtuale, proponente. Chi possono essere i proponenti? Possono essere le associazioni di volontariato del territorio, possono essere dei soggetti come le scuole ad esempio, possono essere dei soggetti anche come l'amministrazione pubblica, che le parrocchie, vale a dire soggetti che o per loro stessi o filtrando delle esigenze che nascono dal territorio, entrano sulla piattaforma e presentano queste, che abbiamo chiamato progetti, iniziative, che tendono appunto a sostenere dei problemi e delle esigenze che nascono dal territorio. Ad esempio una famiglia che può avere bisogno di una bicicletta, per fare un esempio concreto. Ad esempio, nella situazione di prototipo con cui noi abbiamo lanciato alcuni giorni fa la piattaforma, che verrà operativamente resa disponibile a metà marzo sostanzialmente, dopo un incontro che faremo ancora con le associazioni di volontariato locali, ci sono già dei progetti veri, di associazioni come Protetto, che ad esempio ha richiesto delle biciclette per i migranti, piuttosto che mai più sole, che propone un sostegno ad un intervento di ristrutturazione edilizia per delle case che verranno date alle donne in difficoltà. Dunque chi vorrà dare il proprio aiuto potrà connettersi sulla piattaforma e aiutare chi ha bisogno. Ci sono tre forme di supporto che noi abbiamo ipotizzato e che vengono gestite dalla piattaforma. Sono o supporto di denaro, quindi un contributo di denaro, che questo verrà fatto con delle funzionalità molto semplici di accredito sul conto corrente dell'associazione, piuttosto che utilizzando strumenti come Paypal e così di questo tipo, oppure fornitura di beni, cioè ci può essere qualcuno che ha bisogno di un divano, ok, il cittadino che ne ha uno in più, oppure ore, ma le ore sono ore di volontariato. Spieghiamo che dietro la piattaforma solidali.org c'è una vera e propria associazione che si è costituita ad hoc. Sì, siamo in sette, l'abbiamo fondata, Valerio Ferrero che è anche amministratore delegato di Etinet, il presidente, e diciamo attraverso questi sette noi ci stiamo muovendo, ipotizzando. Adesso l'attenzione su cui noi ci stiamo concentrando è come rendere, la piattaforma è già sostanzialmente funzionante al 95%, ci sono ancora alcuni piccoli aggiustamenti. Quello che noi vogliamo fare adesso è rendere la piattaforma uno strumento facilmente utilizzabile dalle persone della comunità. Siamo arrivati in chiusura di questa edizione del telegiornale, a voi come sempre un grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie a tutti.